Ciao Pino, so che non ami le band esibizioniste, ma volevo un parere sugli Slipknot. Bella maglietta comunque, un abbraccio, Rick. A me non dicono niente, sinceramente. Tutta roba trita e ritrita. Poi lo sapete anche la gente che si mette le maschere, quelle robe lì. C'è qualcosa di molto meglio da ascoltare. Molto, molto meglio. Comunque è un'ottima band, eh? Anche se io poi preferisco il progetto solista del cantante. Comunque. I Stone Sour. I Stone Sour, grandi, a me piacciono parecchio.